mix time voglia di fanciullezza un libro per l'estate palomino di michael scoffier illustrazioni di mattie modè babbalibri 2020 alle bambine piacciono i poni a chi non piacciono i poni i poni piacciono a tutti sì è vero ma le bambine piacciono di più ai poni cosa piace palomino è un poni vuole una bambina una bambina vera però i suoi genitori non vogliono una bambina è un impegno troppo grande bisogna darle da mangiare spazzolarla e portarla al parco ma palomino la vuole il suo amico arizona ce l'ha il suo amico arizona ha una bambina che gli fa le attricce e con la quale si diverte a giocare tutti i giorni ma dove ha trovato una bambina arizona l'amico di palomino lo accompagna al fiume sull'altra sponda ci sono tantissime bambine che giocano a palla una meraviglia per il piccolo cavallo c'è solo l'imbarazzo della scelta però c'è una bambina con i capelli fulvi che se ne sta un po' in disparte e quando palomino la vide in fondo al cuore capisce immediatamente che sarà lei la sua compagna di giochi e che la camerà scarlett grazie a tutti deve portarla a casa e convincere i suoi genitori a tenerla però come si fa ad attraversare il fiume? è facile palomino si tuffa in acqua e... accidenti non sa nuotare un divertentissimo racconto ribaltato dove un ponia volere a tutti i costi una bambina e non il contrario un punto di vista diverso fatto per stupire il lettore che ci impiega un po' ad entrare in questo mondo al contrario e follemente colorato però quando capisce l'espediente narrativo si diverte tantissimo oltre alla descrizione delle varie scene ci sono anche i discorsi dei personaggi che possiamo vedere perché interagiscono con i balloons proprio come nei fumetti i personaggi stessi ricordano dei fumetti una storia diversa dal solito che però affronta un problema molto comune la voglia squisitamente infantile di avere un animale come compagno di giochi allora perché non immaginare per una volta un punto di vista differente? se alle bambine piacciono i poni e li vogliono come compagni di gioco anche i poni piacciono le bambine e vogliono giocare con loro www.babalibri.it www.babalibri.it www.babalibri.it